Ok, allora vogliamo partire con il primo? E chi è il primo? Il primo è il gruppo Los Tainos B, balletto, salsa e baciata. Ballano per noi Irene Guazzi, Nicole Cartaneo, Angela Mettica, Isa Bianchi, Erika Venturini, qui non li hanno scritti tutti male, Tosca Veronica. Spero di non aver sbagliato, alla fine vi faremo dire da loro. Grazie, bellissimo. E andiamo con i nostri amici nel gruppo Los Tainos B. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.